Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi sono un'altra volta qui con mia mamma Ciao e oggi faremo la vabbè in inglese no cosa ho in mano challenge beh poi lo scrivo nel titolo Ho dato 5 cibi a testa e però non ci pentiamo perchè se no una cosa c'è gli occhi però se non c'è gli occhi non c'è gli occhi e vabbè inizio inizia prima lei a assaggiare a saltare? Sì ok dai e vado a prendere le cibi cosa sarà? ah è mattato il naso e noi facciamo che non odoriamo ma tocchiamo e assaggiamo se ci va però io non lo so ok ok che cosa che cos'è qui? assaggiamo posso assaggiare roba che posso morire intanto lui mi dico che si è lontano che era affondato vabbè dopo vi dico che cos'è nell'info box posso assaggiare? assaggio ma che cos'è? vuoi l'acqua? no ma non è che è roba del cane no? no no posso coccicare? siiii che schifo vuoi l'acqua? no come noce? ricorda va beh ovunque non si sa perché? ricurizia lo cioccolato no no non riesco a capire quella ricurizia però non riesco a capire quello di lavoro è il lavoro frutti di bosco si lampone quello finlandese poi si può durare? no posso assaggiare? no e poi capisci subito riquelizia riquelizia? si le caramelle quelle che c'è in ultima no la sapete che c'è? ma sembrerebbe pepe pepe nero peperoncino caffè no sale bravo hai sentito? no però sto dicendo tutte le cose poteva essere pure zucchero vabbè però un zucchero un po' più questa qua e questo mi sa che si posso durare un'adora farina farina? ma lo assaggiate se vuole è una farina quando ti arrendi ti arrendi ma non sei se parlo più bassa di te no no io sono più a farina sono molto di carbonato di carbonato di sodio e di carbonato oddio no piccola di patate e poi è l'ultimo questo è viscido che cosa è? posso assaggiare? è busi infatti ho preso 6 cipi perché poi l'aglio non so se l'aglio o cipolla non lo riconosco non lo capisco ti arrendi? hamburger crudo mi ho preso un pezzo d'amore forse è l'uloglio sii mamma ne hai dovitati 3 su 5 vedi buon po' prepara subito l'acqua ora non so io non ho preso il pianto è sta sul pezzo quindi la mano sopra piano chi è? Tipo sale, vangattato, pepeleoncine Prendi la pepeleoncina e fai così Però è il crepe nero Ma si può mangiare? Sì, sì Ma lui è betta Cioè? Come si chiama? No, però smarino Rosmarino no Erbetta no, basilico no Come si chiama? Alloro? No Rosmarino? No Oddio Certe secondi No, mamma Stai lavorando Aspetta l'aglio No, pepeleoncino No, rosmarino Basilico Alloro no Ti ricordi tutti meno che quello? No, da quello che si vede sul colino Sul pollo Si vede anche sulla pizzaiola Beh, hai capito, inizia quella qua, su Che non riesce a... Olive Olive Osmarino Osmarino Ah! C'ho una figlia proprio Allora scrivete a tutti su... Oligano Scrivete a tutti su hashtag osmarino Osmarino Oligano Senti il lato Vai Come il mano? Come il mano? Eh Non ci devo vedere Ah, non ci devo vedere Ah, bella, non lo andoviare No Senti, insieme Vai Vai Puoi assaggiare? Ma anche non ci dare? Sì Non ci dare? Ah, non lo vuoi urtica Ma schifo Ma schifo Ma schifo Ma schifo Eh, sai, non riesce a capicchè È buono? È buono È buono È brava Poi Facciamo questo Chiudi gli occhi Che c'è anche il cucchiaino Mmm Per assaggiare Mamma, ma che cucchiaino Non lo voglio cucchiaino Eh, allora apri Senti Tocco solo Tocca fino alla mano Aspetta È polvere Ma mi dà fastidio? No Bicarbonato No Motivare Te Ma che riposo Ma 버�ere Ma mica si mangia il bicarbonato Ma no Molendo Che schifo Attimo Ok Quanti non ho indovinati? 3? Eeeh From the Gammaắt Bicarbonato edingo Cucar Si Non odorare Oggi Дerni Non odorare Non odorare Ah, è sempre pomodoro Non odorare Che schifo Aglio Cipolla Che stava di mettere Quella che ti ho preso era la cipolla O l'aglio Dove stava? Cipolla Vabbè Che cosa abbiamo pareggiato Sì, perché il basilico non vale Abbiamo pareggiato Vi devo dire un paio di cose Allora, la prima cosa Che io l'otto Cavola, che sai Che io l'ho il nove Il dieci e l'undici E va Non ci sono E però voglio fare un vlog E però E i vlog ogni giorno Che magari ne viene tutto un intero Però se viene tutto un intero di 50 minuti Non mi pare il caso Quindi magari O li divido in due parti E li carico magari uno lunedì E l'altro giovedì Così ne carico due E poi il prossimo lunedì ancora Voglio registrare un Ahimai Che è un Un videotag più o meno Però voi sotto mi dovete fare Delle domande con l'hashtag Ahimai E poi con una domanda Cioè non so se avete capito Per favore fatemelo Tutti i commenti Perché lo voglio fare Ve lo dice pure mamma Vero? Sì sì Fate Fate Andiamo a comandare Quindi niente ragazzi Il video è finito Lo speriamo vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bel pollice in su Se no Ciao a tutte Buone ferie Buone vacanze Iscrivetevi al mio canale E noi ci vediamo al prossimo Ciao ciao Ciao